Musica Brevemente che cosa è successo stasera alla scena prima della partita del cuore, ovvero io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la nazionale cantanti e una volta seduti lì l'organizzatore, giusto, Pecchini, è venuto vicino a noi e ci ha detto che non potevamo stare seduti lì, o meglio che Aurora non poteva stare seduta lì Allora noi abbiamo pensato, ce lo sta dicendo perché siamo della squadra avversaria della nazionale cantanti Quando facciamo per alzarci l'organizzatore Pecchini mi dice no 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 tu puoi restare, è solo lei che non può rimanere qui al tavolo dei giocatori Io chiedo spiegazioni e lui mi dice sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole E io ho detto guardate che io non sono l'accompagnatrice di Ciro, io sono stata convocata così come... Dicevo sono stata convocata così come Ciro e lui mi ha detto non mi far spiegare il motivo per cui non puoi stare qui, alzati Che cazzo significa? Che cazzo significa? Non lo so che cosa significa e mi ha invitato a sedermi a un altro tavolo, al che Ciro è seduto con me all'altro tavolo E dopo ci ha chiamato in disparte, credo il direttore generale della nazionale cantanti, non ricordo precisamente chi Il quale parlando con noi ha detto no c'è stato un problema, voi non potevate stare lì perché erate della squadra avversaria Gli abbiamo spiegato che i termini non erano questi ma mi hanno fatto alzare perché ero donna, non perché ero della squadra avversaria E lui ha detto vabbè ma tu mica giochi, tu sei qui come accompagnatrice No cacca accompagnatrice, lei è una giocattrice Ho detto guardate che io ho la convocazione, ho la convocazione stampata, mi hanno chiesto le taglie dei completini E il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano Per cercare di renderci utili, adesso il problema è la ricerca Ogni flessione di quello che succederà questa sera vorrà dire ricerca che stenta, vorrà dire persone che non ce la faranno Quindi abbiamo tutti una responsabilità E per cui quello che posso fare è mostrare la maglia di Aurora E se qualcuno la conosce ditele che noi la stiamo aspettando in campo per cercare di imporre rimedio